La riflessione è che Brollo non vuole cambiare, noi avevamo offerto una possibilità a Brollo, non vuole prenderla, non è ancora matura e quindi siamo andati avanti così. Cosa farà Ettore Salpietro? Come ho detto nei comizi, continuerò, non si sbarazzeranno facilmente di noi, abbiamo tracciato un solco, abbiamo piantato un seme, questo germoglierà prima o poi, noi speriamo il più presto possibile. Io penso che oggi il dato più importante sia stata la frammentazione del voto, non penso che i toni alti abbiano pagato o non abbiano pagato, è stata fatta, fra virgolette, un'operazione verità, io ripeto, il dato secondo me che si evidenzia dai risultati è appunto la frammentazione del voto. Io penso che se, come dire, le tre liste avessero ragionato in maniera più razionale e avessero fatto realmente sintesi, oggi noi saremo qui a discutere di un'altra, come dire, di un'altra andazzo della campagna elettorale. Ci metteremo a lavorare nell'interesse della collettività, poi ovviamente ognuno nel proprio ruolo. Noi amministreremo il Paese, ci sarà un'opposizione che mi auguro che sia incisiva, anche costruttiva. Per il resto, oggi godiamoci questa bella giornata. Con tanti miei amici che mi hanno sostenuto in queste settimane durissime anche dal punto di vista personale con me e con loro ricomincio il mio percorso. Un percorso fatto assolutamente costruttivo perché servono proposte e serve soprattutto grande pacificazione a Brollo. L'invito che faccia Irene Ricciardello che parte un attimino svantaggiata perché praticamente alla fine del percorso questo sindaco avrà solamente il 30% dei cittadini che l'hanno votato, quindi sarà ancora più duro per lei. Mi auro che voglia ritrovare rapidamente la pacificazione perché a questo Paese la prima cosa che serve è la pacificazione, tutte le altre cose si riassumeranno piano piano.